Il peggior risultato possibile per la Cremo, purtroppo, perché il Como vince anche a Catanzaro, vince il big match della 32esima giornata di Serie B 2023-2024. Questo è un brutto risultato per la Cremo, perché appunto viene riscavalcato dal Como, il Como passa a 61, la Cremo rimane a 59, ma dobbiamo dire anche che il Como ha un calendario nettamente più facile. Ahimè, sulla carta, sulla carta, quindi non ci voleva. Una partita, è stata una bellissima partita, due ottime squadre si sono affrontate, dove i primi 25 minuti sono stati belli intensi, con ritmi molto molto alti. Però il Catanzaro, portarsi in vantaggio con Van de Putt, è un giocatore veramente molto interessante, che a me piace tantissimo. Il Como dopo poco prende un palo con Cutrone. Nell'ultimo quarto d'ora invece, possiamo dire, un sostanziale equilibrio della partita nel secondo tempo, poi la ribalta, ragazzi. Il Como, da ottima squadra qual è, ribalta la partita e porta a casa tre punti fondamentali. Con un brivido finale di dimensioni apocalittiche. Forse per 5 cm, 5 cm viene annullato il gol di Antonini. All'ultimo, all'ultimo secondo. Con un, tra l'altro, aveva fatto un ottimo assist, un assist da centrocampista, da numero 10, da parte di Fulignati. Purtroppo però per il Catanzaro e per la Cremonese, mi viene da dire, il gol è stato annullato. Quindi ci sarà da soffrire fino alla fine, da lottare su ogni pallone. E pensiamo, ragazzi, partita dopo partita. Perché, vabbè, allora. Ha vinto il Como, però questo risultato tiene a debita distanza il Catanzaro, che è più 7, più 7, a meno 7 da noi, scusate. E soprattutto il Palermo, perché il Palermo ha pareggiato 2-2 contro la Sampdoria. Quindi il cambio di panchina Corini Mignani non ha portato i frutti sperati per il tipo di rosa nero. Quindi il Palermo rimane a 9 punti e direi che su 6 giornate rimangono, secondo me, troppi da recuperare. Il Catanzaro è a meno 7, ma dobbiamo andare là a giocare. E lo sappiamo che il Catanzaro gioca benissimo, gioca a memoria, ha uno stadio caldissimo, ha grandissimo entusiasmo, e per questo vi faccio i miei più sentiti complimenti per la stagione che sta facendo, perché sta facendo una stagione pazzesca. Pazzesca, la sorpresa del campionato. Niente, la spunta al Como. Peccato, peccato. Adesso vediamo cosa farà il Venezia Ascoli domani sera. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi, scendere in campo partita dopo partita e portare a casa punti, macinare punti su punti. Quindi, ragazzi, fondamentale sabato allo Zini contro la Ternana, che ci sia il tutto esaurito e, importantissimo, portare a casa questi tre punti. Un bel like, un bel commento sulla partita, ragazzi, se l'avete vista, e un'iscrizione al canale. Forza Cremo!